quando poi socrate con discorso ispirato alla verità e alla critica cercava di porre in chiaro questi fenomeni di allontanare gli uomini dai demoni questi demoni per opera di uomini che si compiacciono del male fecero sì che anche lui fosse ucciso come ateo ed empio dissero che voleva introdurre nuovi demoni nello stesso modo operano nei nostri confronti infatti non solo tra i greci queste menzogne furono confutate dalla ragione attraverso socrate ma anche fra i barbari dal logos in persona che prese forma e divenne uomo e si chiamò gesù cristo obbedendo a lui noi diciamo che i demoni i quali hanno operato in codesto modo non solo non sono buoni ma sono cattivi ed empi poiché non compiono nemmeno azioni simili agli uomini amanti della virtù grazie a tutti grazie a tutti